La funzione Swipe & Share permette di visualizzare su televisori Smart Viera con semplicità video, foto e ascoltare musica memorizzati su uno smartphone Android o iOS. La funzione è accessibile dall'applicazione Viera Remote cliccando sull'icona Media. Ricordiamo che Viera Remote è disponibile gratuitamente dal market Android o App Store di Apple. Per esempio possiamo trasferire della musica che abbiamo memorizzato sul nostro smartphone. Oppure possiamo trasferire delle foto. Il funzionamento è molto semplice ed intuitivo e si chiama Swipe & Share. Semplicemente trascinando la foto sul TV si può vedere la singola immagine, una presentazione delle foto o c'è la possibilità di scorrerle manualmente. Allo stesso modo posso facilmente trasferire dei video. Entriamo per vedere i video memorizzati sul nostro smartphone e ne inviamo uno trascinandolo nella parte superiore. Durante la riproduzione sarà possibile regolare il volume se abilitata la funzione nel menu impostazione del televisore e rivivere i nostri ricordi così come li abbiamo registrati. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.